I film di Andy Warhol verranno digitalizzati e salvati grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione dall'Andy Warhol Museum di Pittsburgh e dal MoMA di New York, che conserva i film dell'artista simbolo della pop art. Si tratta di almeno un migliaio di nastri in cui, oltre ai film più famosi come Sleep o Empire, un'inquadratura fissa dell'Empire State Building della durata di oltre 8 ore, ci sono molte opere rare e in alcuni casi mai mostrate al pubblico a causa della fragilità della pellicola. I film verranno digitalizzati fotogramma per fotogramma, un lavoro meticoloso che durerà anni e sarà realizzato dalla Moving Picture Company, società britannica di post-produzione che ha curato gli effetti speciali di moltissimi film di Hollywood come Batman Begins e Prometheus.